Nel corso della Commissione di Controllo e Garanzia presieduta da Emanuela Mori, gli assessori del Comune di Perugia Margherita Scoccia e Leonardo Varasano, insieme ai dirigenti Baldoni, Zepparelli e Marini, hanno fatto il punto relativamente alla riqualificazione del turreno. Dagli studi approfonditi effettuati è stato detto è emerso rispetto alle previsioni originarie che il complesso presenta dal punto di vista della vulnerabilità sismica alcuni elementi di criticità che richiedono opere strutturali complesse e mirate. È stato dunque deciso di aggiornare il ruolo che il nuovo turreno potrebbe assumere nell'ambito dell'offerta culturale e ricreativa cittadina e più in generale nell'ambito del programma di rigenerazione urbana del centro storico. L'obiettivo in sostanza è di restituire alla città non solo un luogo dove si consumi cultura ma che sia fabbrica dell'innovazione digitale nel campo delle arti visive in genere e dello spettacolo e del teatro. Ciò comporta la necessità che lo spazio venga dotato di tutte quelle soluzioni impiantistiche e tecnologiche tali da renderlo un laboratorio culturale innovativo nel campo dei sistemi digitali. E partiamo dall'assunto che il turreno non debba essere una struttura che possa confliggere con teatri anche importanti del nostro centro storico come il Morlacchi, come è l'auditorio di San Francesco al Prato, ma dovrà essere una struttura che in qualche modo si integra con quelli esistenti creando un'offerta culturale differente. Proprio in ragione delle nuove valutazioni tecniche contenutistiche è emerso che il completamento dell'intervento sul turreno non potrebbe realisticamente allinearsi alle tempistiche della programmazione 2014-2020 relativi a PORFESRE ed Agenda Urbana, ovvero entro il dicembre 2023. L'amministrazione ha concordato con la Regione una rimodurazione dei fondi e degli interventi secondo il seguente cronoprogramma. Due nuovi interventi vengono previsti in Agenda Urbana. L'intervento di valorizzazione del patrimonio storico, librario ed architettonico e di miglioramento della funzionalità e della sicurezza della Biblioteca Augusta, dell'importo di 1.285.000 euro circa per la realizzazione di un percorso museale virtuale all'interno della ex chiesa di San Francesco al Prato, dell'importo di 400.000 euro totalmente finanziato con risorse di Agenda Urbana. Tali opere saranno completate entro il 2023. La riqualificazione del Turreno, mantenendo tutte le fonti di finanziamento già previste per 4 milioni e mezzo di euro, viene previsto in un altro canale avente scadenze allineate a quelle del PNRR.